Momenti di paura si sono vissuti sabato scorso a Schiavonea di Corigliano quando ha preso fuoco un appartamento posto in una palazzina di quattro piani. L'appartamento è ubicato su via Salerno di Schiavonea. È successo tutto intorno alle 22. Un odore forte, acre di bruciato ha messo in allarme i condomini di altre palazzine che hanno subito chiamato i pompieri e i carabinieri. Le lingue di fuoco uscivano dall'appartamento ed erano provenienti in modo particolare dal bagno sauna. Al momento nell'appartamento non c'era nessuno, il proprietario risiede infatti in Germania. Nel pomeriggio pare che nell'appartamento ci fosse stata la madre. L'incendio sarebbe stato scatenato a questo punto da un cortocircuito che si è verificato solo in serata. E' stato successivamente domato dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la palazzina facendo allontanare tutti gli altri condomini.